Deve sentire la vicinanza e la solidarietà delle istituzioni democratiche e Israele deve sentire che l'Italia e l'Europa non accetteranno mai che i nuovi equilibri nella regione e la doverosa ricerca della pace tra tutti i popoli che la abitano passino attraverso l'isolamento e l'insicurezza di quanti sopravvissuti all'olocausto o loro discendenti hanno ritrovato una loro patria in terra di Israele. Grazie. Presidente, cari colleghe, cari colleghi, a rischio di passare per provinciale, io oggi qui in occasione della giornata, credo e spero, giornata mondiale della memoria, parlerò di un personaggio molto provinciale, però che ha una storia, una storia e un messaggio, non stento a pronunciarlo, universali. È la storia di un mio compaesano che di questi giorni, proprio settimana prossima, assieme a sua moglie Anna festeggia i novant'anni della sua nascita. Per esattezza entrano i due nel loro novantesimo anno di vita che speriamo che possano poi compiere ancora. È una storia di resistenza antinazista, di persecuzione anche e soprattutto da parte dei propri compaesani, per la stragrande maggioranza nazisti, allora di una eroica autoconsegna ai boia nazisti per evitare ritorsioni sui familiari, di internazione al lago di concentramento di Dachau, della sua miracolosa sopravvivenza, miserie e torture e infine del suo libro Memorie, dal titolo Un vergessen, dimenticare mai. Perdonare sì, dimenticare mai, è rimasto il motto di questo Franz Thaler, questo è il suo nome. Sono fiero di portare in questa occasione alla memoria del Parlamento italiano, alla testimonianza di questo Franz Thaler. Fiero, non perché Franz Thaler fosse rappresentativo del popolo sutirolese di quel funesto periodo, ma al contrario, perché ne rappresenta l'eccezione, una essigua eccezione. Noi sutirolesi abbiamo tanto bisogno della lezione di quel piccolo uomo in costume, sempre in costume sarentinese, tanto perché di memoria eravamo molto corti e del dimenticare abbiamo fatto la nostra virtù. Non siamo stati solo vittime, quali volentieri ci essibiamo, ma pure rei attivi e molto anche. La nostra rielaborazione del passato nazifascista fu per gran parte rimozione. Nella mia terra, provincia di Bolzano, tuttora coltiviamo una rara doppiezza di coscienza storica. Chi era nazista rivendica di essere lo Stato in quanto antifascista e chi era fascista lo vuole essere stato solo in nome dell'italianità, quindi del antinazismo. Non rimestare è stata per mezzo secolo la parola d'ordine del nostro grande governatore dei tempi, Silvio Usmaniago. Difatti, il passato di quel periodo è poco onorevole. È il piccolo grande Franz Thaler, uno dei 17 fratelli di una povera famiglia di lavoratori agricoli della Val Sarentino, ne è testimone. Anno 1939, Hitler e Mussolini risolvono la cosiddetta questione su Tirolesi con l'accordo delle opzioni. Oltre l'80% della popolazione tedesca laddina optano, è certo un'espressione eufemistica. Optano per lasciare la propria heimat e di espatriare nel Reich tedesco. L'essigua minoranza del poco più del 10% si decide per restare. La famiglia del giovane Thaler è fra questi, osteggiato e perseguitato fin alla fine della guerra dai propri compaesani. diffamato per italiano, espulso dalla scuola del Paese, lasciato solo anche dal proprio Stato. Pur essendo cittadino italiano, al Franz viene l'ordine di precetto in un reggimento di polizia della Wehrmacht. Ma Franz, ragazzo sveglio e pastore ancora minorenne, a quell'epoca si sottrae all'arrollamento e si rifugia sulle montagne della propria valle. I miliziani nazisti minacciano ritorsioni sui familiari, il pastorello si consegna, finisce ad Auschwitz, destinazione, esecuzione. Poi, liberato il 29 di aprile, tornato a casa, il sopravvissuto Thaler ha dovuto fare l'esperienza di cosa voglia dire ricordare in una società che della smemoratezza ha fatto il suo segreto di successo. Isolato e deriso, evitato dal Paese, compensato solo da una bella famiglia con quattro figlie, il ricco amatore di piume d'occa ha iniziato a scrivere le sue memorie, il suo dimenticare mai, appunto uscito in una piccola lezione. Ancora due frasi. Ecco, questa fu la sana spinna nella pelle grossa, spessa ed insensibile della società neoricca e smemorata su tirolese. Fu il personaggio mite, umile, non violento, gandiano ad aver avuto alla lunga la meglio sulla maggioranza diffidente, a volte apertamente offensiva. Oggi la società su tirolese si può ritenere fortunata di aver trovato in questo uomo del dimenticare mai un contraltare al collaborazionismo nazista su tirolese. Un buon compleanno al signor Alfrantz e alla sua Anna. Grazie. La ringrazio. Ora interviene il deputato Antonino Bosco. Prego, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Ricordare la tempesta devastante, la Shoah, che tra il 39 e il 45 portò al massacro di oltre 6 milioni di ebrei. Non può, non deve, non possiamo permettere che diventi un giorno qualunque, una ricorrenza come le altre. Questo crimine, con tutte le sue premesse e le sue conseguenze, segna in maniera ineludibile il confine tra il bene e il male e quanti hanno a cuore le sorti dell'umanità debbono sempre tenerlo a mente. E dobbiamo insegnarlo, ricordarlo, commentare.